Ragazzi benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar, nuovo prodotto della DG da testare, la Soft Soul Instant Cleaner Si spruzza, fa una schiuma dove c'è la macchia e poi con questa spazzola la si va a togliere e dovrebbe venire pulito Testiamo, testiamo, abbiamo qui per noi per voi la nostra Nike Tester Perché non conosciamo il nome del modello e quindi la chiamiamo così perché entra tutti i nostri test Poverina, sacrificata, però vediamo come funziona sempre con noi Il cattivo di questo giro è sempre la Calvè Ketchup Piccante Marco ogni volta che la usa è una tortura perché lui ama le salse e le sembrano sprecate Marco fammi uno zoom, la riusciamo, la togliamo proprio dalla scarpa e la utilizziamo Bene, la spando un pochino, aspetta aspetta aspetta, parlo zoom, stai già facendo zoom? No, perfetto, spalmata ben bene, Marco fammi una zoomata adesso Si lascia agire per un quanto Marco? 10-15 secondi? Un po' è il tocco Un 10-15 secondi la schiuma dovrebbe assorbire tecnicamente lo sporco, entra nelle fibre Quindi aspettiamo un 10-15 secondi, in questi 10-15 secondi vi ricordiamo che qui sotto nei box trovate il link per andare a trovare tutti questi prodotti negli store fisici Tutti i prodotti Digi, Soft Soul e Sneakers Ball Stiamo parlando dell'Instant Cleaner, potete trovare il Gel Cleaner, il Water Proofer, Power Protect, il White Polish e le Sneakers Ball Più altri, altri, tanti tanti prodotti Quindi qui sotto nel box, come sempre, il link per andare a trovare questi store fisici e per comprare questi prodotti della Digi Adesso facciamo agire questa schiuma per qualche secondo e poi andiamo a rimuoverla con la spazzola che c'è presente qui sul cappuccio dell'Instant Cleaner Nike Tester, è perfetta, si vede Marco? Sì Proviamola, per curiosità, anche sulla midsole bianca Direi, anche qui, perfetto Quello che vi consigliamo di fare sempre ragazzi è prima di mettervi alle scarpe perché se siete come me il piede non puzza perché a me non ci dà il piede modestamente Però se siete come Marco o Pedro che avete un po' giusto di odorino Odorazione sì, odorino no Odorino no? Pedro o Pedro? No, Pedro non c'è Ha un po' di odorino, Pedro Per cui Non essendoci non può smentire E niente, praticamente, prendete queste palline sempre della Digi Si chiamano Sneakers Ball Le aprite un attimo, le buttate nella vostra scarpa E ve le profuma Questo, altro consigliatissimo, altro prodotto consigliatissimo Abbiamo detto Sneakers Ball Sempre del grande brand Digi Si chiamano Sneakers Ball Questo è il brand, mi raccomando Profumo ottimo In balotte da buttare dentro le scarpe per la profumazione Bene, vi lasciamo come sempre qui sotto i nostri link Instagram, Facebook Il prodotto è stato testato, funziona, per cui consigliamo E cos'altro dire? Per la prossima puntata faremo un altro prodotto Sempre della Digi perché ne abbiamo tanti altri da testare Per la pelle, il freshener Si vede? Athletic Care Kit Quindi per pulire il tutto E non ci fermeremo, continueremo, continueremo a testare tutti questi prodotti Perché siamo curiosi e siamo vogliosi di farvi avere una recensione di questi prodotti Giustamente perché poi potete andare a comprarli Fate sapere cosa ne pensate Se li avete provati Se avete intenzione di provarli Tutto qua sotto nei commenti Mi raccomando E fate subscribe al canale Mi raccomando Tra un poco arriveranno le magliette Per cui stay tuned Mi raccomando Ciao ragazzi, alla prossima Ciao 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 Ciao